Juliana Moreira con Stoppa in Telandia. La nostra attività sta fallendo. Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono tornati in Telandia, paesi dove si recavano almeno una volta l'anno prima dell'emergenza coronavirus. La modella brasiliana ha condiviso su Instagram un tenero scarto con la figlia Lua, scatenando subito l'ira di alcuni haters infastiditi dal viaggio all'estero date le varie restrizioni in Italia anti-Covid-19. Juliana ha messo subito a tacere i criticoni svelando di trovarsi nel sud-est asiatico per alcuni affari di lavoro che purtroppo, non stanno andando nel migliore dei modi. Noi poveri comuni mortali italiani non possiamo recarci per turismo in Telandia come in tantissimi paesi extra-UE. W all'Italia e le ingiustizie. Ha scritto qualcuno sui social network alzando subito un polverone sulla questione. Non si è fatta attendere la reazione di Juliana Moreira, che ha chiarito tutta la situazione. Sono 15 anni che veniamo in Telandia, abbiamo aperto un'attività che, ovviamente, è quasi al fallimento data la situazione. Abbiamo anche un conto corrente aperto che se non movimentiamo verrà chiuso. Siamo stati costretti a venire per far fronte alle esigenze lavorative. Abbiamo fatto tutto quello che richiede la legge per venire e adesso stiamo passando le vacanze in quarantena. Juliana Moreira ha inoltre confidato di voler andare in Brasile per rivedere la sua famiglia, ma non essendo più residente in Sud America e non. Avendo alcun tipo di lavoro in quella parte del mondo è al momento impossibile. La subret ci ha tenuto poi a precisare che in molti posti si può viaggiare rispettando pienamente le regole. Siamo chiusi in albergo, in quarantena preventiva, con tre tamponi da fare anche senza nessun tipo di sintomi. Juliana Moreira non ha specificato il tipo di attività che ha aperto con il marito Edoardo Stoppa in Talambia. Non è escluso che sia legata alla Muay Thai, la box tailandese di cui sia Juliana sia Edoardo sono appassionati. I due l'hanno scoperto durante il primo viaggio dalle parti di Bangkok ed è stato amore a prima vista. Edoardo Stoppa e Juliana Moreira si sono recati in Talambia per il loro primo viaggio di coppia e ogni anno trascorrono almeno tre mesi dall'altra parte del mondo. Almeno fino allo scoppio della pandemia, che ha costretto il 47enne e la moglie a rivedere vari progetti personali e professionali. Due Maria De Filippi su Rai 1 Prima di Uomini, Donne e Amici, cosa farà? La nuova stagione televisiva è alle porte, dai canali Rai a quegli Mediaset. Il 9 e il 10 settembre prossimo, in prima serata su Rai 1 e in diretta dall'Arena di Verona. Carlo Conti e Vanessa Incontrada presenteranno la quindicesima edizione dei Seat Music Awards 2021. Ormai la manifestazione è diventata l'evento musicale live dell'estate TV. Messo in soffitta il Festival Bar, eccezione fatta per battiti live che via via si sta avvicinando al flop. Gli Awards rappresentano un'occasione per fare il punto della discografia con la consegna di numerosi premi a chi? Tra giugno 2020 e settembre 2021, ha conquistato certificazioni d'oro, platino e multiplatino sia per gli album che per i singoli. Quest'anno il palco scenico dei Music Awards 2021 ospiterà non soltanto cantanti, ma anche star del piccolo schermo. A grande sorpresa su Rai 1 arriva Maria De Filippi. La conduttrice, sul palco dell'Arena di Verona, ritroverà Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Con il primo ha condotto il Festival di Saneremo 2017. Mentre con l'attrice ha stretto negli anni precedenti delle collaborazioni per averle in giuria ad amici. Si tratta soltanto di una semplice ospitata. Molto probabilmente sarà lei a consegnare un premio per le vendite ad alcuni ragazzi di amici. Questo, però, rappresenterà un modo di vederle in televisione prima degli inizi di Uomini e Donne e della ventunesima edizione del suo Talent. Proprio sulla rete di Stefano Coletta, la De Filippi, doveva condurre con Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli un evento contro la violenza sulle donne lo scorso anno. Poi non se ne fece più niente. Tra i cantanti e ospiti musicali che saliranno sul palco dell'Arena di Verona durante i Seat Music Awards, va segnalata la presenza di San Giovanni. Il talento lanciato dalla scuola di amici di Maria De Filippi. Con il suo primo abone e i singoli Malibu, Ipe, Tutta la Notte e Lady. Ha ottenuto un grandissimo consenso da parte del pubblico tanto da meritarsi il premio. Premio che sarà consegnato dalla moglie di Costanzo. Amici di Maria De Filippi e i Seat Music Awards, tutto il cast 2021. Sul palco dei Seat Music Awards, oltre a Maria De Filippi e San Giovanni, ci saranno anche Marco Mengoni? Liga Bue, Claudio Baglioni, Gigi D'Alessio, che diventa padre per la quinta volta, Loredana Bertè, reduce da un intervento. Marrakesh, Marco Giallini, Diodato, Zucchero, Giorgio Panariello, Madame, Alessandra Amoroso, Achille, Il Volo, Fiorella Mamnoia. Amadeus, Emma, Annalisa, Mahmood, Pio e Amedeo. Arriveranno anche Alessandro Siani, Takagi, Ketra e Giusi Ferreri, Culepesce e Di Martino, Carl Brave e Noemi. Ospite sarà anche Alessandro Cattelan, fresco acquisto della Rai. 3. Anna Tatangelo e la foto bollente. Arriva la reazione del fidanzato Livio e Cori. Anna Tatangelo e Livio e Cori stanno insieme. Dopo aver provato a negare il gossip qualche tempo fa i due, sono stati paparazzati dal settimanale chi durante una bollente vacanza in costiera amalfitana. Archiviato il basso profilo, quindi, Anna e Livio non si nascondono più. Su Instagram si sono lasciati andare a dolci commenti e svariati like. L'ultima foto Instagram, che potete ammirare più in basso, ha fatto impazzire tutti i full lover di Anna Tatangelo. Nello scatto l'ex compagna di Gigi D'Alessio mette in mostra tutta la propria sensualità e avvenenza. Tra i tanti a complimentarsi c'è anche Emma Marrone, che non può fare a meno di sottolineare la bellezza della collega. Non è tardata ad arrivare la reazione di Livio e Cori. Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo ha piazzato ben tre cuori blu sotto lo scatto Instagram. In uno precedente, invece, Livio ha scritto il blu ti dona. La risposta di Lady Tata non si è fatta attendere. La 34enne ha lasciato tre cuori, pure lei blu sarà forse un colore legato alla loro liaison. Al nuovo compagno. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la love story tra Anna Tatangelo e Livio e Cori sia sbocciata qualche mese fa anche se due si conoscevano da svarianti anni. Livio ha collaborato in passato con Gigi D'Alessio, compagno della Tatangelo per ben 12 anni. Livio e Cori, 31 anni, è un cantante e attore napoletano. È stato nel cast della serie TV Cult Gomorra e nel 2019 ha partecipato al festival di Sanremo in coppia con Nino D'Angelo. Perché se sono lasciati Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. La storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo è finita dopo più di 10 anni insieme. I motivi della rottura non sono mai stati svelati del tutto. L'annuncio della separazione è avvenuto nei primi mesi del 2020. La seconda rottura visto che Gigi e Anna si erano detti addio già nel 2017 prima di regalare una seconda chance al loro amore. Nonostante la separazione restano l'affetto e la stima è soprattutto il figlio Andrea, che ha 10 anni. Intanto Gigi D'Alessio sta per diventare padre per la quinta volta. In autunno nascerà il bambino che aspetta dalla nuova fidanzata. La studentessa Denise Esposito di 26 anni più giovane.